Importante iniziativa dello scrittore Nino De Luca con Salvatore Isaia, proprietario dell'omonimo franchising di Case di Riposo. De Luca infatti ha donato tanta copie dei suoi romanzi alla struttura per richiamare l'attenzione delle nuove generazioni sull'importanza di mantenere con gli anziani una connessione attiva e costante. Gli anziani i più penalizzati dal covid, questa è stata una delle recenti dichiarazioni di Papa Bergoglio che ha gettato luce sulle sofferenze delle tante persone in età avanzata che non hanno potuto godere dell'affetto dei loro cari. Ora che il peggio della fase pandemica sembra essere alle spalle, è fondamentale darsi da fare per aiutare gli anziani a ritornare gradualmente ad una dimensione di partecipazione alla vita sociale. Con questo spirito è nata l'iniziativa promossa da Nino De Luca e Salvatore Isaia, founder della catena di franchising di Case di Riposo, gruppo Isaia. Ascoltiamoli. Un'iniziativa che vuole sottolineare l'importanza di ricercare, di ritrovare un legame con la memoria attraverso un gesto di affetto che idealmente farò regalando un libro con queste persone anziane. Il nostro compito non è soltanto quello di assistere gli anziani da un punto di vista medico, clinico, ma anche quello di dare tanta solidarietà a loro. Quindi l'iniziativa dello scrittore Nino De Luca è stata immediatamente presa in considerazione da me, da tutto il mio staff, dal CDA della clinica e quindi abbiamo voluto che oggi lui stesse qui con noi a consegnare un libro a tutti i nostri ospiti.